Hola a tutti ragazzi, qui da Abbox e oggi sono qua per un mini vlog di pochi secondi per chiedervi una domanda Vorrei fare una serie sui Pokémon Ora, la... diciamo le scelte sono tante, sono ben tre Una vorrei portarle a Pokémon GO, perché lo stanno portando tutti e quindi mi farebbe anche piacere farvi vedere come è la mia squadretta Dato che sono quasi a livello 26 non sarebbe male da farvelo vedere Secondo, dato che ho scaricato l'emulatore potrei fare due cose, Pokémon Smeraldo o Pokémon Mystery Dungeon Ora, video finito, quindi molto molto breve, molto rapido anche perché mi servirebbe una risposta per registrare Se il video vi è piaciuto scrivetemi sotto nei commenti anche la serie perché sarebbe molto importante per me Quindi sappiate che vi piace tra Pokémon Smeraldo o Pokémon Mystery Dungeon Detto ciò, un saluto da Abbox